Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana di TV City. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Eluca, ha da poco firmato un'ultima ordinanza che prevede il tanto temuto coprifuoco. Da venerdì, chiusura dei locali dalle 23 alle 5 del mattino e stop alla mobilità notturna. Sempre per la situazione epidemiologica picco di contagi in tutti i comuni del Vesuviano, sindaci allarmati e ospedali che iniziano ad andare sotto sforzo. E sempre sul Covid-19 abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei cittadini torresi che lamentano una sempre più acuta assenza di controlli. Torniamo alla cronaca invece con un arresto a San Giorgio a Cremano a parte della Guardia di Finanza, manette per un imprenditore che aveva evaso il fisco per 10 milioni di euro. I carabinieri invece hanno arrestato nell'Interlanda napoletano una banda di persone dedicate alla bonifica di case e locali di clan da microspie e telecamere per le intercettazioni. Passiamo invece al nuovo attore del Greco con la premiazione al liceo classico De Bottis degli studenti meritevoli di borsa di studio fornita dall'associazione Ex-Alunni. Passiamo ora allo sport in conclusione con il rinvio della partita ieri Palermo-Turris. Si sarebbe dovuta svolgere alle 18.30 ma è stata sospesa per il numero di positivi della squadra di casa. Picco di contagi nei comuni vesuviani. Ieri sera il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha annunciato in diretta che 43 cittadini erano risultati positivi al Covid-19 solo nella giornata di ieri. Sono quindi 128 i torresi affetti da coronavirus, di cui sei ospedalizzati con sintomi. Numeri mai visti nemmeno nei tempi più bui di inizio pandemia. Nemmeno gli altri comuni del Vesuviano versano in condizioni migliori. Torre Annunziata ha registrato ieri 25 cittadini positivi. 137 attualmente contagiati anche a Ercolano, dove il sindaco Ciro Buonaiuto ha dichiarato un'impennata ai tamponi positivi nelle ultime 72 ore. Una situazione gravissima che ha portato il primo cittadino a chiudere il mercato settimanale in Piazza Pugliano e tutti i circoli ricreativi e centri per gli anziani. Scelte ancora più drastiche se si considera che solo lunedì Buonaiuto aveva annunciato, in pieno contrasto col DPCM emesso dal governo, di non volere assolutamente chiudere strade e piazze e, in generale, evitare misure restrittive verso i suoi concittadini. Apprezzione a portici per il sindaco Enzo Cuomo, risultato positivo al Covid. Continua a lavorare da casa, annunciato con un posto su Facebook ieri sera. Nello stesso messaggio, il primo cittadino ha tranquillizzato riguardo i contagi verificatisi nelle scuole nelle ultime settimane. In pochi giorni, oltre 400 tamponi per monitorare la situazione. San Giorgio ha lutto per due decessi da coronavirus. Inoltre, da sabato a ieri, sono stati 69 i cittadini in risultati positivi. Il sindaco Zinno ha lanciato un appello alla popolazione per rispettare tutte le regole previste da ordinanze e decreti ed ha chiesto all'ASL di accelerare i tempi per i tamponi di guarigione, fermi ormai da giorni, costringendo moltissime persone a continuare una quarantena inutile. Dati che, inevitabilmente, vanno a gravare sulle condizioni già critiche degli ospedali e del territorio. Il Covid Hospital di Bosco Tre Case attualmente conta 70 ricoverati per coronavirus, 14 in subintensiva e 5 in intensiva, di cui 4 persone intubate. L'ospedale Maresca di Torre del Greco, invece, si avvicina sempre di più a diventare un secondo Covid Center. Ieri, il Padiglione Vecchio è stato rinominato Palazzina Covid ed ospitirà almeno 28 pazienti per alleggerire il carico di degenze che grava su Bosco Tre Case. Situazione critica anche per l'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equenze, anche questo destinato ad accogliere solo pazienti affetti da coronavirus. I cittadini e dei rappresentanti territoriali di Fratelli d'Italia stanno protestando nelle ultime ore per chiedere l'apertura del pronto soccorso anche ai pazienti ordinali. All'ingresso della struttura campeggia da questa mattina un lenzuolo con la scritta «Non si muore solo di Covid». Assemblamenti incontrollati durante il giorno I cittadini di Torre del Greco commentano ai microfoni di TV City le parole del sindaco Giovanni Palomba che alle nostre telecamere ha parlato di situazione allarmante annunciando nuove misure con una maggiore presenza delle forze dell'ordine su tutto il territorio. I torresi si dicono preoccupati e lamentano l'assenza di controlli. La situazione è allarmante. Queste le parole del sindaco Palomba riguardo l'emergenza Covid. Cosa ne pensa? Però non prende provvedimenti, non ci stanno controlli per la città. Vedo i bar tutti attaccati, uno con l'altro. Non ci stanno controlli per me. Il giorno dovrebbero stare meno assemblamenti per i negozi, i bar. Penso che con attenzione di tutti e per il rispetto specialmente verso le altre persone riusciremo forse ad uscirne da questa situazione. Ci sono delle cose che sono essenziali e non vanno chiuse chiaramente per quanto riguarda il lavoro però tutto ciò che può essere effimero bisogna in questo momento farne a meno un po' tutti quanti. L'allarmante è senza controlli. Innanzitutto manca da loro il vero interesse di fare qualcosa perché né l'Aggiunta né Palomba non fanno niente per la città. Ci vuole molto più pugno. Ha qualcosa da proporre all'amministrazione per la gestione del contagio? Guarda, noi che stiamo al di fuori penso di no ma chi ci governa penso che sappia qualcosa più di noi. Le vedo in una città con dei cittadini molto liggi al dovere portano tutte le mascherine. Che altro dobbiamo fare? Non lo so, siamo distanziali. Vado a vedere invece dove stanno gli assembramenti veri quelli veri però nei mezzi pubblici di fuori a certi locali, il sabato sera nei giorni del weekend quello deve andare a guardare. Non si può dire che siamo indisciplinati. Sono i controlli che mancano dove ci dovrebbero essere. Non si vede un agente, un vigile urbano non si vede nessuno per quanto riguarda i controlli perché giustamente come diceva anche De Luca alcune settimane fa dice io faccio le ordinanze però se non c'è nessuno che li fa rispettare e che li faccio a fare. Questo significa che o il prefetto di Napoli si dia da fare a cercare un po' di mobilitare di nuovo le forze pubbliche oppure chi per esse i vigili urbani che devono controllare che gli assembramenti vicino a dei locali o sui mezzi pubblici tipo pulmini che a volte sono strapieni senza nessun distanziamento sono questi controlli che vediamo noi che mancano e poi forse c'è qualcosa forse nei ragazzi nella gioventù che non sembra aver capito bene la gravità della situazione specialmente se si vede il sabato sera che qui vediamo dei gruppi di tutti i ragazzini 90% sono parecchi di loro vanno avanti senza mascherina vicino a prendere panini lì non c'è nessun controllo noi anziani praticamente siamo a casa c'è i giovani che camminano per strada così senza nessun controllo se si fa un lockdown un'altra volta non so come si va a finire in quale zone della città rileva delle criticità a livello di assembramenti e quindi la mancanza di controlli? io penso nella villa comunale dove sono assembramenti sulla Vesuviana i posti dove sono tutti i giovani che si raccolgono tutti quanti là e qua la polizia dovrebbe controllare controllare un po' le forze dell'ordine controllare un po' sì è qua questa zona è qua Bonificavano uffici e abitazioni dalle intercettazioni sei arresti nell'interrante napoletano i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di sei soggetti gravemente indiziati di corruzione danneggiamento di sistemi informatici o telematici favoreggiamento personale delitti tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose l'attività investigativa coordinata dalla DDA Partenopea è condotta dal nucleo investigativo dal novembre 2019 al settembre 2020 ha consentito anche con il contributo delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia di raccogliere molteplici elementi di prova per cui risulterebbe che uno degli indagati dipendente di una ditta fornitrice per la Procura della Repubblica di Napoli di servizi e strumentazioni per attività tecniche di intercettazione con l'intermediazione di un ex appartenente alle forze dell'ordine avrebbe effettuato dietro corrispettivo di somme di denaro bonifiche rinvenimento di microspie presso abitazioni autovetture ed uffici nella disponibilità di affiliati al clan Puka aiutando costoro a deludere le investigazioni sull'associazione accamorristica a cui gli stessi appartengono inoltre uno degli arrestati avrebbe materialmente danneggiato una telecamera di sorveglianza installata per fili investigativi dai carabinieri nei pressi dell'abitazione di Pasquale Puka alias Ominoren indiscusso capo dell'omonimo clan tra i soggetti colpiti da provvedimento cautelare ci sono quattro esponenti di primo piano della citata consorteria in manette un imprenditore più di 10 milioni di euro sottratti al fisco i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli coordinati dalla procura della Repubblica di Nola hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di San Giorgio a Cremano l'uomo gestiva i suoi affari nel settore della commercializzazione di prodotti energetici i finanzieri l'hanno ritenuto responsabile di una maxi-evasione dell'IVA contestualmente le fiamme gialle stanno procedendo al sequestro finalizzato alla confisca di beni anche di lusso del valore di circa 10 milioni di euro Borse di studio al liceo De Bottis per gli studenti meritevoli consegnate ieri pomeriggio le borse di studio per i liceali che si sono maggiormente distinti nello scorso anno scolastico la premiazione è stata organizzata dall'associazione ex alunni del liceo De Bottis e realizzata grazie al contributo della Banca di Credito Popolare i vincitori sono stati 28 maturati con 100 e 100 e lode e ragazzi delle prime e delle quarte individuati per media e meriti scolastici cerimonia tipica nel rispetto delle norme anticontaggio e delle ultime ordinanze regionali in un De Bottis blindato e chiuso agli alunni i presenti in Aula Magna erano la dirigente scolastica Letizia Spagnolo il presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione il sindaco Itorel Greco Giovanni Palomba presidente del consiglio studentesco l'avvocato Felice Bellona e la professoressa Carolina Laverde presidente dell'associazione ex alunni alunni, vincitori e genitori hanno seguito la premiazione in videoconferenza Cosa significa in questo periodo premiare il merito degli alunni? Quest'anno la premiazione degli alunni maturati ha una particolare importanza rispetto agli altri anni perché i ragazzi che si sono maturati nel 2020 sono ragazzi che hanno attraversato un periodo molto ma molto particolare anche da un punto di vista emotivo oltre che organizzativo organizzativo ragazzi che hanno dovuto rinunciare alla loro festa del maturando ma che comunque sono riusciti a portare dei risultati quindi nonostante il covid nonostante la didattica a distanza nonostante l'attenzione emotivo che ci ha coinvolto questa epidemia i ragazzi sono riusciti a portare dei brillanti risultati Qual è l'impegno dell'associazione ex alunni in un momento del genere? L'associazione ex alunni ha da statuto il compito e il ruolo bellissimo di premiare gli allievi che si impegnano nell'attività di studio ma noi come giustamente ha sottolineato la dirigente abbiamo pensato in questo nostro ritorno come associazione dopo circa 25 anni siamo ritornati ad essere da circa 4 anni abbiamo voluto estendere questa diciamo nostra iniziativa anche ai maturati perché noi premiamo i ragazzi per la loro assiduità per il loro impegno questo piccolo dono in danaro è soltanto il presupposto per mettere in evidenza che in qualche modo li ringraziamo quanto loro realizzano lo fanno certamente per se stessi però sono un bellissimo esempio per la città sono un bellissimo esempio per i loro compagni rappresentano una cassa di risonanza che ritiene l'associazione debba essere attivata costantemente per dimostrare che lo studio l'impegno l'assiduità pagano come si è proceduto per arrivare a questa prima azione in un periodo così difficile? ma innanzitutto con molta abnegazione che peraltro è un tratto che contraddistingue sia l'operato di tutto il liceo classico e il linguistico De Bottis sia quello dell'associazione ex alunni cercando di concentrarsi anche su queste cose che per noi vestono sempre un motivo di grande soddisfazione perché andare a ricercare il merito tra gli alunni frequentanti liceo è sempre soddisfazione per loro ma soprattutto anche per noi che cerchiamo appunto nella lode e nel merito dei ragazzi anche il senso della nostra missione come associazione ex alunni e per me personalmente che rivesto anche la carica di presidente del Consiglio di Istituto come ulteriore attestato di stima nei confronti di questa scuola si dà forza a questi ragazzi si dà un riconoscimento in un momento così difficile un momento che stiamo vivendo io sto qui al liceo e vedere questa scuola senza studenti senza quel movimento di gioia di ragazzi l'anno scorso eravamo in piena attività con questa manifestazione con la dirigente con la presidente degli ex alunni del liceo dei botti il presidente della banca del popolare siamo soli e questo rattrista tantissimo è un momento di gioia per questi ragazzi che vengono premiati è un momento che vogliamo dare un messaggio si vuole dare un messaggio stiamo combattendo e nello stesso momento non si perdono quelle che sono le tradizioni questo è importantissimo e ringrazio la scuola il dirigente per questi momenti che fanno sì che tutto deve andare avanti tutto deve continuare non ci dobbiamo mai fermare come è importante investire sul merito soprattutto per quanto riguarda i giovani ci sono dei giovani che meritano e quindi devono essere in qualche modo premiati è un'attenzione che la banca devo dire con orgoglio sta avendo negli ultimi anni soprattutto nei confronti dei giovani studenti giovani del territorio questa iniziativa che noi voglio dire supportiamo con grande piacere perché ormai è una tradizione che ci portiamo avanti di sostenere l'associazione degli ex alunni del liceo del bottis lo facciamo proprio con lo spirito di essere vicino ai giovani di incoraggiarli e di dare loro come dire una una prospettiva futura perché anche qui c'è una banca del territorio che li vuole sostenere si gioca anzi no a pochi minuti dal fischio d'inizio arriva inaspettata la decisione da parte della Lega Pro di rinviare a data da destinarsi l'incontro tra il Palermo e la Turris incredibile quanto avvenuto ieri sera allo stadio Renzo Barbera con le squadre praticamente già schierate sul terreno di gioco in attesa di disputare la partita l'inatteso annuncio del rinvio dopo che per tutta la giornata si aveva la certezza di giocare nonostante l'alto numero di tesserati della società siciliana contagiati dal covid-19 il regolamento prevede un numero minimo di calciatori disponibili per poter disputare il match ma nonostante ci fosse piena volontà da parte del club rosa nero la Lega ha preso la decisione drastica creando notevoli disagi soprattutto alla compagine torrese la Lega Pro in un comunicato afferma che dopo aver ricevuto notizia dei casi positivi nel Palermo ha ritenuto che in presenza di un cluster di infetti si dovesse procedere all'isolamento dei soggetti colpiti e delle persone che sono state a contatto inoltre scusandosi con la Turris per il disagio creato la Lega conferma di aver fatto tutto il possibile per salvaguardare la salute di tutti grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni redazione chiocciolatvcity.it o il numero di telefono 340-656-1484 340-656-1484 340-656-1484 440-656-1484 Grazie.